...Italia, poi la lampra e adesso Marvini, Caldirolla, la squadra di Garzelli, in caso di arrivo allo sprint parliamo naturalmente di un gruppo di 10-12 uomini, Garzelli sarebbe il favorito essendo il più veloce, attenzione a Perez Guapio, gran scalatore, qui siamo sulla maglia rosa che è a ruota di Matteo Tosatto. ...Ormai ha perso le posizioni buone Alessandro Petacchi cerca, come si dice in gergo, di salvare la gamba, il proprio dovere l'ha fatto, è andato addirittura l'ammiraglia a prendere le borracce, il leader della classifica generale sta rispettando le disposizioni di Ferretti. Sì, intanto al comando gli uomini della Vini Caldirolla, Steve Zampieri, corridore svizzero, che è in testa. ...E al chilometro 123 ripresi tutti i fuggitivi, quindi gruppo compatto, compatto per modo di dire, ci sono ormai in ritardo almeno 40 corridori, tutti i velocisti si sono già staccati. ...Lorenzo Roata? Sì? A te Lorenzo. Sì, Auro, soltanto per segnalare, non è cosa da poco, che Petacchi adesso sta perdendo le ruote del gruppo dei migliori, per cui si completa tutta quella che era la previsione della vigilia, altro che difesa della maglia rosa, non sarebbe nelle corde del velocista Spezzino, che probabilmente ha lavorato a pancia bassa per ordine di Ferretti tutto il tempo della tappa, quando si era nei saliscendi e nella pianura e adesso con molta classe si fa da parte e lascia il campo agli uomini della sua squadra che fanno la classifica del giro, Aitor González e Dario Frigo. Immagine significativa, Petacchi non stava assolutamente soffrendo, quindi sta rispettando semplicemente gli ordini di squadra. Il team manager Ferretti gli ha detto vai su tranquillo, non preoccuparti, là davanti ci sono uomini per Frigo e Aitor González, ci ritroveremo domani sul traguardo di Arezzo. Non era certo un Petacchi a tutta quello che abbiamo visto. No, perché? Perché non ha nessun senso sprecare energie per prendere qualche minuto in meno. Non abbiamo visto in precedenza, appena è cominciata la salita, Cipollini dopo aver lavorato per Scharponi si è fatto da parte, così come hanno fatto tanti altri velocisti. Tanto il tempo massimo è il 10% del tempo del vincitore, non danno nessun problemi questi arrivi, queste tappe, quando c'è solo una salita nel finale. E quindi i velocisti cercano di risparmiare, mentre davanti vediamo Keula. E' un piemontese, Giampaolo Keula, classe 1979, siamo a un chilometro dal Gran Premio della Montagna. E probabilmente vedremo Freddy González fare la volata, il detentore della maglia verde. Ci sono pochi punti, perché questo è un Gran Premio della Montagna di terza categoria. In casa Colombia Sella Italia, secondo te, chi potrà fare bene oggi, visto che sono quasi tutti scalatori? Ma io penso che possa fare bene Freddy González. Non lo so Castelblanco che condizione abbia, neanche Hernandario Munoz, ma non li vedo tra i primi cinque. Al chilometro 23, su Capo Lamaina, era transitato per primo Zabaia. Si sta muovendo ancora, Costantino Zabaia, lo vediamo in seconda posizione. Evidentemente l'obiettivo di questo corridore della Kelme è la maglia verde. Infatti stanno lottando Freddy González e Zabaia. Siamo a Castelfranco, mancano 18 chilometri al traguardo, tra due chilometri... Ma è andata bene, è riuscito a stare in piedi e ha fatto un capolavoro Zabaia. C'è stata, secondo te, scorrettezza Davide oppure... No, non penso. Il problema è che il traguardo della montagna era 50 metri dopo quella curva secca sinistra e non era proprio in salita, era praticamente in pianura e quindi Zabaia è arrivato un po' troppo lungo. Ma adesso Nazareno Balani ci farà rivedere questa volante. Intanto linea a Fabretti. Mentre Dario Frigo è nelle zone d'avanguardia del gruppo, Aitor González è sempre rimasto nella coda in questi tre chilometri del Gran Premio della Montagna. E la cosa particolare è che Dario Frigo era da solo, mentre Aitor González era insieme con Cioni, Kirschen e Tosato. Non vorrei che la condizione di Aitor González non fosse quella da lui sperata. Beh, in effetti non è una posizione per uno che vuol vincere il giro, rimanere in coda al gruppo in questa fase. Non c'è stata scorrettezza da parte di Freddy González, ha semplicemente imboccato questa curva verso sinistra troppo velocemente. Zabaia, pubblicità per noi. Torniamo in diretta, gentili telespettatori. Ormai tutto è pronto, la montagna di Roma sarà il primo giudice di questo 86esimo giro d'Italia. Rivediamo quanto è successo durante la pausa. Pozzi scivola, era con González in testa alla corsa. Una scivolata per Pozzi che si è subito rialzato ed ha ripreso. Ancora la Vini Calderola, Cidermec e la squadra di Garzelli in testa. Siamo a Vazia, comincia la salita. Saranno 16 chilometri e 100 metri di ascesa. Pendenza media del 7.3%, pendenza massima del 12%. Il primo tratto è subito impegnativo. Primo tratto impegnativo, sono i primi 7 chilometri, con delle pendenze intorno al 7-8%. Poi a Pian di Rosce, 600-700 metri abbastanza facili e ancora 6-7 chilometri difficili. Forse i più difficili, soprattutto negli ultimi 3 chilometri. Le pendenze sfiorano il 10%. Pantaloncini strappati, causa la caduta per Pozzi. Che prosegue un'escoriazione per lui. Lui è rimasto in fuga con Baxter, Frattini, Aggiano e Palumbo per una trentina di chilometri. Sfortunato il corridore Lombardo, segnalata la maglia rosa con un ritardo di 30 secondi. Fabretti a te, cominciata la salita. Sta cominciando la salita quando siamo a meno 15 dalla conclusione. Roberto Conti aveva un caschetto in mano, probabilmente era quello di Marco Pantani. L'ha consegnato alla vettura del cambio ruote, ma il giudice si è arrabbiato moltissimo e credo che combinerà una multa. Non so se a Marco Pantani, sì è proprio lui, perché vedo la testa del pirata. Quindi probabilmente l'ha tolto, ma prima di vedere il cartello che dava la possibilità di togliere il caschetto. Pantani si è già levato il casco, per adesso rimane in gruppo. C'è un cartello bellissimo a metà salita, in dialetto laziale. Marco stringi i denti, stringi i denti, vieni duro, chiedono i tifosi a Marco Pantani. Vedete, sta risalendo Aitor Gonzales, anche lui si è levato il casco. Qui siamo su petà. Ecco, proprio in questo momento c'è il cartello che indica ai corridori che possono togliersi il casco. Mancano 15 km l'arrivo. Affiancato alla Maglia Rosa, Lorenzo Bernucci, che ha lavorato sul GPM di Castelfranco per Jaroslav Popovic, il capitano della Lambo Credit. Distacco Maglia Rosa, 52 secondi, questo è un dato che ormai ha poco interesse. Cambierà il capo classifica al termine della tappa odierna. Sarà un souvenir, però c'è anche un rischio. No, c'era l'ammiraglia, non l'ha gettato al pubblico Perez Guapio, anche perché sono caschi che costano almeno 100-150 euro, quindi non è corretto gettarli come fossero dei normali cappellini. E qui comincia la salita, cominciano le pendenze intorno all'8%, prima era salita, ma le pendenze erano molto più leggere. Difatti vedete che molti corridori si staccano. Alessandro, a te la linea. Non si è staccato nessuno, comunque il grande rischio nel gettare i caschetti, evidentemente i corridori non sono ancora abituati, perché alcuni caschi hanno rimbalzato sul muro e poi sono tornati in corsa praticamente, facendo rischiare anche qualche capitombolo. Invece altri corridori hanno preferito infilarlo sotto la maglietta come Barbero della Lampre. Comunque fino a questo momento non si è staccato nessun uomo di classifica, altri uomini si stanno sganciando dal gruppo, ma non sono coloro che vogliono fare la classifica generale. Andrea Tonti in seconda posizione, Gilberto Simoni, poi Stefano Garzelli, sta risalendo anche Marco Pantani. Vediamo anche Mazzolini, poi Raimondas Rumsas, Scarponi, c'è Belli, c'è Tonkov, c'è Tocchnig della Gerolsteiner. Bravissimo anche Graziano Gasparre. Faresin rimane affiancato a Marco Pantani e c'è anche Micho Lievitz della Alessio con Ignazio Gutierrez. A te Alessandro. L'attenzione è perché si sta staccando Dario Frigo, attenzione perché Dario Frigo si sta staccando, lo sta aspettando Marzio Bruseguin, avanti a lui c'è anche Kirschen. Dario Frigo in netta difficoltà, ormai ha perduto la ruota dei migliori gruppo lì avanti, è intorno a una cinquantina di metri, dunque Dario Frigo subito in difficoltà e questo potrebbe essere il primo verdetto del Giro d'Italia. Prima notizia clamorosa, al secondo chilometro di salita Frigo in difficoltà, accanto lui a Zvejev, vedete Dario Frigo non riesce più a tenere il passo dei migliori. Anche a Itor Gonzales ho l'impressione che non stia andando benissimo, non è davanti e mi dava l'impressione che fosse intorno alla trentesima, quarantesima posizione. Troppo duro Dario Frigo, non riesce proprio oggi a spingere su quella bicicletta. Molto più agile è la pedalata di Marco Pantani. Strano perché di solito Frigo soffre il caldo, l'abbiamo visto andare in difficoltà nella terza settimana dei grandi giri, ma che fosse questa per lui già una giornata critica non ce lo saremmo mai aspettati. A te Fabretti. Alessandro, a te. In questo momento anche Itor Gonzales si stacca come Marco Pantani. Lo vedo lì davanti e lo riconosco chiaramente anche se è un centinaio di metri rispetto a me, ma Itor Gonzales ha perso almeno 150 metri dal gruppo dei migliori. Ormai tagliato fuori Dario Frigo, Marco Pantani cerca di recuperare. Rimani sul pirata Alessandro perché all'inizio della salita sembrava stesse andando bene Pantani mentre tra i più pimpanti notiamo Garzelli, Simoni, Casagrande. Notate Pantani. Attenzione perché Pantani sta ritornando sotto. Ha riuscito adesso a trovare un buon ritmo anche perché davanti stanno rallentando leggermente perché Tonti non è più in testa e sta, ecco, rientrato Marco Pantani. Rientra Pantani e poi chi ha buona memoria ricorderà quanto successo sul Mont Ventoux nel 2000. Pantani aveva perso contatto dal gruppo Armstrong e riuscì a rientrare poi a vincere la tappa. C'è anche, c'è anche Pellizzotti nel gruppo buono, stanno risalendo Veghelius e Gasparre. Giampiero Galeazzi sarà un grande dopo tappa oggi. E' credo proprio così, caro Mauro. Grande spettacolo non solo dal punto di vista conistico ma anche lungo la strada. Hai visto migliaia e migliaia di appassionati che stanno spingendo i corridori verso i 1670 metri. avremo Garzelli sicuramente a stappa la tappa, avremo il vincitore della tappa, la maglia rosa. Nonché alcuni giornalisti importanti, è inutile che te li ricordi, Claudio Ferretti, c'è Lillo Pietro Paolo, Iossi del Corriere della Sera. Insomma, veramente un numero pieno a stappa la tappa. Vi aspetto, adesso viviamo il momento più bello. A voi la linea. Grazie a Gianpiero Galeazzi. Qui siamo su Andrea Noè che tiene duro. C'è anche Leonardo Bertagnoli, c'è Scarponi. C'è Tocchnig. Mentre Mazzoleni sta facendo un gran lavoro per Garzelli. A ruota di Garzelli, Perez-Quapio, poi Simoni, Rumsas. Andiamo a scoprirli tutti. C'è anche Sabagliauskas. Belli, casa grande. Tonkov e Popovic. A te, Roata. Dire del veronese Caucchioli che avevamo pronosticato per quello che riguarda gli uomini Alessio a giocarsi il posto di capitano con Pellicciotti. C'è anche Caucchioli disperatamente aggrappato al gruppo dei migliori. Quindi ti segnalo questo. Per il momento ti restituisco la linea. L'andatura tranquilla di Petacchi che oggi lascerà la maglia rosa. Fabretti, Gonzales e Frigo ci confermi siano entrambi staccati? Assolutamente sì. Sono staccati, mi volto indietro, non li vedo. Loro stanno procedendo del loro passo mentre sta perdendo contatto in questo momento. Anche Serghei Gonciar era rimasto insieme con i migliori come Garzia a Quesada. Adesso in difficoltà anche lui. C'è Sunderland che sta perdendo contatto. Marco Pantani ancora in difficoltà. Insieme con lui ci dovrebbe essere Silvestre Smid. È proprio Marco Pantani e Smid che stanno perdendo contatto. Si rialza su pedali Pantani, cerca di recuperare la ruota del gruppo dei migliori. Molto bene Scarponi. Per Esquapio è rimasto al comando per diversi metri. Adesso invece ha lasciato la testa del gruppo. Marco Pantani sta faticando insieme con lui Smid. E adesso si è posto alla ruota del pirata. Sta procedendo del tuo passo, non sta rischiando. E sta andando così come può in questo momento. Ha colloquiato Pantani brevemente con Smid. Probabilmente gli ha chiesto un cambio. Ma il polacco non ha le gambe per poterlo accontentare. Cerca di resistere Marco Pantani. È vicinissimo. Mentre ormai staccato di un 150 metri. Eitor González ancora più indietro. Frigo. A te Alessandro. Invezione. Colpo di scena. Francesco Casagrande in difficoltà. Ha perduto la ruota dei corridori. Vedo Giuliano Figueras avanti. Eccolo qui. Nando Casagrande inquadrato insieme con lui. C'è Vladimir Belli. Dunque Francesco Casagrande in netta difficoltà. Molto pesante. Molto dura la sua azione. E vedete Pantani è lì dietro. Sta offrendo colpi di scena. Ripetizione. Questa salita del Terminillo. Già gli anni scorsi Davide. Il Terminillo fu giustiziere per tanti campioni. Il problema è che l'hanno cominciata mille. Soprattutto gli uomini della Vini Caldirolla. Poi anche Tonti della Saico. Adesso si è portato al comando Eddie Mazzoleni. Con Garzelli brillantissimo in seconda posizione. Sempre presente Noè. Lo vedete con la maglia dell'Alessio. Rosso-blu sulla sinistra. Mazzoleni. Gran lavoro per Garzelli. Poi Sabagliauskas con Gilberto Simoni. I due dell'Alessio sono Franco Pellizzotti. Il Delfino di Bibione. E Andrea Noè. Uno dei corridori più esperti del Giro d'Italia. Mentre Vladimir Belli si immola a favore di Francesco Casagrande. Alla vigilia era uno dei favoriti Casagrande. Oltretutto si era fatto preparare una bici leggerissima. Proprio per salire meglio sul Terminillo. C'è anche Graziano Gasparre. Tonkov sembra non aver dato segni di cedimento. Così come Tocznik. Mentre con Pantani c'è sempre il polacco Schmid. A te Fabretti. I migliori sono ormai in 7-8. Mentre continuano a perdere il contatto Francesco Casagrande e Marco Pantani. Adesso in difficoltà Michele Scarponi e Julio Alberto Perez-Guapio. Quindi anche Scarponi e Perez-Guapio insieme con Giuliano Figueras hanno perduto il gruppo dei migliori. Vedo lì davanti molto bene Franco Pellizzotti. Attenzione a Pellizzotti. C'è anche Raimondas Rumsas dovrebbe. Micidiale veramente. Quattro chilometri sono bastati per togliere di mezzo alcuni papabili del Giro d'Italia. Ci riferiamo a Frigo, a Daitor Gonzalez e a Nando Casagrande. Questa la testa della corsa. Noè, Pellizzotti, Tonkov, Rumsas che sembrava però avesse perso contatto poco fa. Popovic, Simoni, Sabagliauskas, Garzelli e Mazzoleni. Un gruppo ristrettissimo davanti. Qui siamo su Giuliano Figueras. Rumsas ha lasciato Casagrande perché ormai è in crisi e cerca lui adesso di fare classifica. Anche Perez-Guapio non ce la fa a tenere i migliori. Ruata con Tocznik e si volta Baranovski della Polsat. A te Lorenzo. Sì, Pantanico, Smid a ruota, vede a pochissima distanza Casagrande. Probabilmente fra un po' i due gruppetti si uniranno. Pedala scompostamente il Pirata. Probabilmente ha patito questa accelerazione in principio di salita. È in netta difficoltà. Vede appunto, ribadisco, Casagrande a non più di 10 metri. Stringe i denti, soffre. Grazie Lorenzo, Raimondas Rumsas è rimasto davanti, quindi non aveva dato segni di cedimento il corridore della Lampre. Mentre qui siamo sul capitano appunto della Lampre Casagrande che ha al fianco Vladimir Belli. In quel gruppetto c'è anche Scarponi e qui siamo naturalmente sul Pirata. Marco Pantani. Eccolo qui, Marco Pantani. Abbiamo visto prima che, prima, qualche minuto fa, che lo aveva affiancato Smid. In quel momento gli ha detto stai a ruota. Probabilmente Pantani preferisse salire del proprio passo. E potrebbe dargli una mano il compagno di squadra nel tratto in pianura a 7 km dalla riva. Leonardo Bertagnolli con Scarponi. Vedete, Pantani dovrebbe essere nella condizione di raggiungere il gruppetto Casagrande. Con lui Carlos Garcia-Chesada. Qui siamo su Casagrande, Belli, c'è Bertagnolli, c'è Scarponi a pochissima distanza. Marco Pantani, eccolo qui. Fabretti, tu sei in coda ai migliori? Sì, sono in coda ai migliori. Vedo danzare sui pedali come una meraviglia. Gilberto Simoni, stesso discorso per Stefano Garzelli. Sempre avanti. Bravissimo Eddie Mazzolini. Mi sembra che sta andando molto bene anche Jaroslav Popovic. Mentre del gruppetto, forse, il corridore che vedo meno lucido, meno bene, Franco Pellizzotti. Pavel Tonko, ormai lo conosciamo, va del suo passo. Sempre con lo stesso ritmo e arriva. Eccolo lì. Io ricordo tre anni fa in casa Saeco mi parlavano di un atleta fortissimo, era giovanissimo allora, Sabagliauskas. I swiveur dicevano è un corridore, questo uscirà. Ed eccolo lì, Sabagliauskas. È alto quasi 1,90 e nonostante ciò riesce a primeggiare in salite. È al fianco del proprio capitano Gilberto Simoni. Roata a te. Si, si attesta sui 25 secondi il distacco del gruppo, diciamo così, Casa Grande. Mentre, poco fa vi raccontavo, Pantani che sembrava aggrapparsi alle ruote di un gruppetto. Ormai sembrava coronato il ricongiungimento. Invece niente da fare. Pantani è lì fra coloro che sono sospesi. Vede lontano, a questo punto una trentina di metri, il gruppo Casa Grande. Tra l'altro, Casa Grande, se si può dire, in questo è ancora più in difficoltà. Belli cerca di pilotarlo, ma Casa Grande davvero smorfie in faccia. Assolutamente non riesce a trovare il ritmo giusto. E Pantani altrettanto non riesce ad unirsi a questo gruppo. Pensate, 5 chilometri di salite, già è successo un putiferio. Chiederei a Roata di rallentare, di aspettare Gonzales e Frigo per capire quale sia il ritardo dei capitani della Fassa Bortolo. Mentre dall'alto vediamo Perez-Quapio che tenta un aggancio e lì a condurre il gruppo degli immediati inseguitori con Casa Grande e Belli. Una trentina di secondi il ritardo di questo gruppetto. Questo è il secondo gruppetto, Belli al fianco di Francesco Casa Grande, mentre Bertagnoli rimane in coda a questo gruppo. Mentre questo è il gruppetto Pantani, ha una quarantina di secondi, con lui anche velo. 40 secondi e pochi metri. Certo che è difficile per Pantani recuperare, sembrava essere pronto per un aggancio al gruppo Casa Grande, mentre qui siamo sulla testa della corsa. Lorenzo Roata, a te. Un battimento per Pantani, adesso di nuovo a 10 metri dal gruppo Casa Grande. Il Pirata sta cercando tutto l'orgoglio e tutta la classe che naturalmente nessuno non può disconoscergli. E lì 10 metri sempre e stranamente adesso si sfila, si sfila Belli meglio. Casa Grande in ultima ruota, Pantani adesso lo vede, rilancia l'azione e stavolta va a prenderselo. Almeno questo buco è chiuso. Quindi Pantani ha agganciato il gruppo Casa Grande, lo vediamo. Giusto in questo momento, Aura, ha tirato fuori un colpo d'orgoglio, si è alzato sui pedali, ha rilanciato, ma il fatto è che Casa Grande è in evidente difficoltà. Francesco Casa Grande. Anche Scott Sunderland, corridore australiano alla ruota di Marco Pantani, mentre continua a tirare Eddie Mazzolini. Molto bravo, sta facendo un lavoro incredibile, sta tenendo l'andatura alta grazie al suo lavoro. C'è stata questa netta selezione fin dai primi chilometri del Terminillo. Adesso tra un po' ci sarà un tratto abbastanza facile. Un lavoro perfetto quello del bergamasco Eddie Mazzolini, Rogarzelli. E tra i giovani il più bravo è Popovic, il corridore di Ernesto Colnago è lì davanti. Andiamo a scoprirli tutti i battistrada con Sabaliauskas, Maglia Rossa, poi Rumsas, Tonkov. Eccolo qui, Popovic, a ruota di Popovic, con un rapporto agile e una fasciatura al ginocchio. Franco Pellizzotti. Testa della corsa formata da nove atleti. Perez Guapio che dava l'impressione sul Castelfla. Franco di voler scattare invece perso contatto. Casa Grande si disseta. C'è Scarponi, c'è Figueras e poco più indietro dovrebbe esserci Marco Pantani. È là, ha perso ancora contatto Pantani. Ruata ce lo confermi. Di nuovo sofferenza, aveva visto, aveva messo nel mirino Casa Grande. Invece Casa Grande per il momento ha trovato almeno alla sua velocità il ritmo che sembra essere l'unico possibile per lui. Si è sfilato Belli decisamente che adesso è nel gruppetto a quattro dove c'è anche Marco Pantani e Velo Passaportolo. Niente da fare. È il calvario per Pantani. Ha proprio la delusione dipinta in faccia. Stringe i denti. Ogni tanto rilancia l'azione ma non c'è niente da fare. Casa Grande laggiù è di nuovo ad una cinquantina, sessantina di metri. Ma stiamo sempre raccontando comunque di un gruppo secondo rispetto ai migliori che stanno facendo la corsa. È smacco per il pirata che sperava di aver ritrovato la forma dei bei tempi. Almeno così sembrava in questi giorni, in questi primi giorni di giro. Invece la prima verità del Terminillo ci dice di un Pantani lontano dalla miglior forma. Nove chilometri al traguardo, nove uomini al comando. Pausa per noi. Meraviglioso! Con estate puoi vincere 20 maglie rosa ufficiali al giorno. Torniamo in diretta, gentili telespettatori. Otto chilometri e mezzo alla vetta di Terminillo Campoforogna. 1.675 metri d'altitudine. Sta succedendo di tutto. Alcuni favoriti del giro sono già in crisi. Linea Fabretti. Come avevo già preannunciato, in difficoltà Franco Pelizzotti che in questo momento si è staccato. Dunque ha perso la ruota dei migliori. A 20 secondi in questo momento Cuglio e Alberto Perescuapio insieme con Tocznik. E un pochino più là, ancora più dietro di un 5 secondi, il gruppetto Nando Casagrande. Insieme con lui c'è Michele Scarponi e Giuliano Figuera. Dovrebbe esserci anche Bertagnolli. Dunque non è così in ritardo Francesco Casagrande. Fino a questo momento perde qualcosa come 25-30 secondi, non di più. L'esperienza sta uscendo per Francesco Casagrande che cerca di salire col proprio passo. Mentre Gonzales è affiancato da Marzio Bruseghin. In casa Fassaborto lo speravano che almeno uno dei due potesse tenere oggi. Invece entrambi sono staccati. Ruota a te. Passano proprio in questo momento al cartello dei meno 9 chilometri. Aitor Gonzales con Bruseghin. Non c'è Frigo. È ancora più indietro Frigo, vero? Assolutamente sì, 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 è sì, Auro. Aitor Gonzales ha tornato da due compagni di squadra. Ho calcolato sommariamente, per carità, secondo più, secondo meno, che siamo vicino al minuto e cinquanta di ritardo rispetto ai migliori per Aitor Gonzales. Mentre al cartello dei 9 chilometri non abbiamo ancora visto Frigo. Ti segnalo invece la faccia che è tutto un programma di Giancarlo Ferretti che segue il gruppetto con Aitor Gonzales. Silvio Martinello. Sì, dal mio punto di vista, non so Davide, tu puoi dare un parere se sei d'accordo o meno. Credo che Pantani stia affrontando la salita con grande intelligenza. Non ha voluto seguire il gruppetto dei migliori da subito, va su con il suo passo. Abbiamo visto qualche chilometro fa una bella immagine, quando aveva Schmid di fianco, il compagno di squadra Schmid, che in qualche maniera lo disturbava. Esatto. Avere un corridore di fianco può disturbare. A volte gli ha detto mettiti a ruota e stai a ruota, che voglio andare su con il mio passo. Dal mio punto di vista non vedo così negativa la prestazione di Pantani. Anche io, anzi. Sì, sì, anch'io sono dello stesso parere, perché lui è come se non avesse nessuno davanti. È come per lui una crono scalata. Va su dal proprio passo, non è in crisi, sta andando su, secondo me, abbastanza bene. Mentre ho l'impressione che stiano recuperando Perez, Quappio e Tocznik. Quindi chiedo a Fabretti di rallentare un attimo, perché dall'alto abbiamo visto proprio due corridori che avevano acquisito un lieve margine sul gruppo Casagrande. Dovrebbero essere proprio Quappio e Tocznik. Ecco li inquadrati. Ecco, questo proprio il momento che abbiamo parlato prima. Gli era al fianco e Pantani gli ha detto mettete a ruote che ci sto io davanti. Proprio perché non voleva interferenze, deve salire del proprio passo. Fabretti. Come ti avevo detto prima, Perez, Quappio è a 20 secondi insieme con Tocznik dal gruppo dei migliori. Adesso ha fatto un altro rilevamento cronometrico e diciamo che il distacco è sempre lo stesso. Invece ha perduto qualcosa, proprio in questi ultimi 500 metri, il gruppo di Francesco Casagrande. Pellizzotti dov'è, Alessandro? Pellizzotti dov'è? Pellizzotti ha recuperato la ruota nel falso piano, nel tratto in cui la strada spianava leggermente e ha recuperato la ruota dei migliori. Adesso transita Francesco Casagrande con Michele Scalconi, Giuliano Figueras e Bertagnolli. Il loro ritardo è intorno ai 50 secondi. Naturalmente ritardo nei confronti del gruppo di Garzelli e Simone. Martinello. Se ti confermo, Auro, che Pellizzotti è ancora con il gruppetto dei migliori, è forse dei nove al comando, quello che sta, almeno così, dall'immagine che sta facendo più fatica, però è ancora con il gruppo dei migliori. Ricordiamo tutti i componenti, il gruppo principale. Scatta Simone. La corsa, tentativo per Simoni. Noè, Pellizzotti, Tonkov, Rumsas, Popovic, Simoni, Sabagliauskas, Garzelli e Mazzoleni. Sabagliauskas che si è messo al comando, probabilmente Simoni gli ha detto di forzare l'andatura, non dimentichiamoci che questo corridore è arrivato quarto in un giro di taglia tra i dilettanti nel 2000, è arrivato quinto ai campionati del mondo, sia a cronometro che in linea, e ha stabilito insieme a Simoni il record sulla bocchetta al Giro dell'Appennino. Tiro dell'Appennino che si è disputato una decina di giorni fa. Ecco, Perez, Quapio con l'austriaco Töchnig, quest'ultimo capitano della Gerlesteiner, Fabretti. Il forzing di Sabagliauskas ha metto altre vittime, Raimondas, Rumsas e Franco, Pellizzotti. Due adesso sono attardati, il loro ritardo è intorno ai 5 secondi, dunque hanno perso la ruota Pellizzotti e Rumsas. L'importanza dei gregari, Mazzoleni per Garzelli, Sabagliauskas per Simoni. Sono stati loro a fare la differenza? Sono stati loro, perché non potevano in prima persona mettersi in testa a 15 km dall'arrivo, e quindi hanno fatto lavorare i propri compagni di squadra, ma non era facile per niente fare quello che hanno fatto Mazzoleni prima e adesso Sabagliauskas. Si è staccato il polacco Schmid, vedete con Pantani sono rimasti in tre, c'è Marco Velo, qui siamo sul capitano della Denardi Kolpak, Sergei Gonciar alla sua ruota Romanik, un altro polacco, siamo tornati davanti con Sabagliauskas, classe 1978, come Rumsas è un lituano, controlla Garzelli a ruota di Garzelli, un inossidabile Andrea Noe, poi Pavel Tonkov, Mazzoleni e Popovic. Sono in sette, sono in sette, si è staccato Pellizzotti lì a pochi secondi, e mancano ancora più di 6 km alla vetta, ecco il cartello dei 6 km al traguardo, superato il centro di piano di Roche, quindi si è oltre i 1000 metri d'altitudine. E davanti non abbiamo parlato, o almeno non abbiamo parlato poco, c'è Andrea Noe, non dimentichiamoci di questo ragazzo, al suo decimo giro d'Italia, è arrivato quarto nel 2000. Ragazzo non è più, ma è un grande professionista, Fabretti a te. Stava al gancio, invece sprint di Raimondas Rumsas, Pellizzotti lasciato lì, ed è rientrato nel gruppo. Stanno cambiando le gerarchie, in casa lampre, casa grande in difficoltà, da oggi potrebbe essere il capitano, Raimondas Rumsas, a correre per la classifica, tra l'altro Rumsas ha già dimostrato, al Tour de France dell'anno scorso, di essere competitivo, anche a cronometro, gran lavoro di Sabaliauskas, e Simoni prova ad andarsene, a ruota di Simoni Garzelli, non molla Andrea Noe, e non molla nemmeno Pavel Tonkov, l'accelerazione di Simoni, è finito il lavoro di Sabaliauskas, vedete si stacca il lituano, ma non ha ceduto nemmeno un metro, Stefano Garzelli. No, sulla ruota Garzelli, sembra che riesca per il momento a stare bene sulla ruota di Simoni, molto bravo al reattivo anche Noe, e Tonkov, che qui vinse nel 97. Erano in 9, poi in 7, adesso sono rimasti in 4, Fabretti a te. Il loro vantaggio è di 50 metri, Jarosz Alpopovic in prima persona, dietro di lui è di Mazzoleni, quindi Raimondas Rumsas e Sabaliauskas, soprattutto Jarosz Alpopovic naturalmente cerca di riportarsi sulla ruota dei 4 battistrada, ma non c'è niente da fare, il forcing ha fatto sì che i 4 perdessero contatto, in questo momento anche Andrea Noemmi sembra che stia perdendo contatto dai 3 in testa, ossia Garzelli, Simoni e Tonkov, dunque in 3 adesso al comando. Viena la testa anche Tonkov, ormai si è formata una coppia al comando, quella con Stefano Garzelli, maglia gialla, Gilberto Simoni in maglia rossa, e un po' la rivincita di quanto successo al giro del Trentino in forma superiore come importanza di gara. Simoni e Garzelli sono a 5 chilometri dalla vetta. Tra l'altro sono anche più difficili, salita fino a 500 metri dal traguardo, poi gli ultimi 500 metri sono un po' più facili, un po' in difficoltà Noe, anche Tonkov. Pesantissimo ormai il passo di Pavel Tonkov, atleta russo, cerca di salire del proprio passo, Franco Pellizzotti. Sarebbe importante per lui raggiungere Andrè Noe, salire in due della stessa squadra sarebbe positivo. Esatto. Mentre per il momento Garzelli cerca di difendersi, mentre Simoni cerca di sfiancare la resistenza di Garzelli. aveva annunciato un attacco Gilberto Simoni, i giorni scorsi sta mantenendo, quanto detto, lo scalatore Trentino, il vincitore del Giro d'Italia di due anni fa. Gilberto Simoni da Palù di Giovo, Stefano Garzelli da Besano, provincia di Varese. Vediamo il loro margine, questi sono Andrea Noe e Pavel Tonkov, poco più indietro Franco Pellizzotti. Facciamo una panoramica generale per capire anche come si siano dilatati i distacchi di Casagrande, di Pantani, di Gonzales e di Dario Frigo. Fabretti a te. Io ho lasciato il duo di testa per portarmi sugli uomini che inseguono. Allora, in questo momento, a una decina di secondi ci sono proprio Pavel Tonkov e Andrea Noe. Ancora più indietro, sempre una decina di secondi di ritardo, il gruppetto formato da Jaroslav Popovic, Mazzoleni, Rumsas e Sabagliautas. Quindi credo che i quattro e i due che inseguono potrebbero unirsi per andare in sei a cercare di recuperare i due di testa. Adesso ha calato un po' l'andatura Simoni. Hai l'impressione, Alessandro, che Pellizzotti possa rientrare nel gruppetto con Popovic o è staccato il veneziano? È staccato il veneziano, intorno a una ventina di secondi, di questo il suo ritardo, sta andando del suo passo, non cerca di recuperare assolutamente, anche perché il giro è molto lungo. Ruato, invece, dove si trova? Io sto prendendo il distacco fra il gruppo Casagrande a questo punto. 35 secondi dopo, c'è Marco Casagrande con Belli che gli apre la strada e poi il gruppo è Scarponi, Figueras, Bertagnoli e Paranoschi che hanno appena assorbito, mentre Marco Pantani insieme a Smith continua a venire su del suo passo e ti dico appunto, tra il gruppo Casagrande e il duo adesso, Pantani e il suo compagno Smith, ci sono circa 35-40 secondi. E' ipotizzabile un ritardo di Pantani e Casagrande di quanto nei confronti di Garzelli e Simoni. Davide, facciamo una previsione. Quanto hanno adesso? Eh, aveva 30 secondi da Casagrande, oltre un minuto. Eh, possono prendere due minuti, due minuti e mezzo. Mi sembra che adesso la velocità di Pantani sia calata mentre prosegue nell'azione Simoni. Simoni che, come vedete, cerca di strappare, non va via sempre regolare, cerca comunque di sfiancare la resenza di Garzelli e comunque per il momento riesce a stargli a ruota. L'anno scorso a Campitello Matese furono Simoni e Casagrande a fare la differenza. Oggi Simoni e Garzelli. Fabretti a te. Attenzione perché Andrea Noè potrebbe riportarsi su due uomini di testa, eh, perché ha lasciato Pavel Tonkov che ha un problema al freno posteriore ed è ormai a 6 secondi da Garzelli e Simoni. Dunque, Garzelli e Simoni, poi Noè, quindi Pavel Tonkov e poi il gruppo Popovic. Una delle migliori prestazioni della sua carriera. Andrea Noè che nel 98 vinse la tappa di San Marino, vestì la maglia rosa, si ripropone come uomo di classifica della propria squadra. Dopo anni di gregariato alla MAPEI. Vedete che Noè riesce a guadagnare secondi perché Simoni che ogni tanto rallenta l'andatura. Ha comunque paura di Garzelli, ha paura che gli scatti nei denti come si dice in gergo e quindi cerca di misurare la resistenza di Garzelli. Per il momento Garzelli sta a ruota, sa di essere più veloce, vuole giocarsi questa tappa perché se arrivano in volata è nettamente più veloce e quindi Simoni, vedete, che ogni tanto strappa. La strada spianerà solamente negli ultimi 400 metri. In precedenza le pendenze non scenderanno mai al di sotto dell'8%. Simoni che qui nel 97 arrivò nonno e era molto più giovane poi in quel giro cadde e fu costretto il rituro. Segnalare la prestazione di Pavel Tonkov che ha fatto fatica a trovare un contratto per questa stagione. La classe è immutata. L'età purtroppo per lui è avanzata però è un lottatore. Pavel Tonkov a te Martinello. Sì, per farvi notare come potete vedere che quando Simoni rallenta Garzelli anche sotto l'aspetto psicologico tenta di in qualche maniera di contrastarlo perché gli si affianca immediatamente per fargli capire guarda che ci sono anch'io non mi stacchi tanto facilmente. In questi momenti soprattutto nel finale di queste tappe importanti si gioca sotto tutti gli aspetti non contano solo le gambe. Segnalati a 25 secondi Rums Spopovic Bertagnolli e Mazzoleni poco più indietro Pellizzotti a 1 minuto e 10 Perez Quapio e Tocznik a 2 minuti Baranovski quindi sia Casagrande che Pantani stanno accusando un ritardo superiore ai 2 minuti. Roatate. Quello che dicevate poco fa che sembrava ulteriormente ridimensionata scusate ma i tifosi adesso stanno disturbando la prova di Marco Pantani dovreste assolutamente chiedere che non lo disturbino in questo modo spinte che sono conclamate inutili Pantani sta soffrendo le pene dell'inferno non è riuscito nemmeno a tenere il passo di Freddy Gonzales che ha rimontato il duo Schmidt e Pantani e poi se ne è andato lasciando sui pedali lo scalatore Romagnolo che sofferenza. si chiude un'epoca oggi l'epoca di Marco Pantani per quel che riguarda le corse a tappe potrà ancora fare qualcosa in una tappa la sua classe non la scopriamo certo oggi oggi abbiamo però capito che Pantani non può più lottare per vincere un grande giro si parlano Simoni e Garzelli eh si si parlano Simoni ha paura ha paura che Garzelli lo lasci lì però mi sembra che abbia il viso un po' guardate guardate si sono guardati negli occhi i guardi Garzelli con la coda dell'occhio e Noè rientra perché hanno calato davanti grandissimo Andrea Noè Fabretti come vi dicevo Andrea Noè il suo forcing la possibilità di riportarsi sui due di testa possibilità che si concretizza in questo momento adesso in tre così il gruppetto di testa è formato da tre uomini mentre Pavel Tonkov sta procedendo del suo passo e più indietro il gruppo con Jaroslav Popovic che da solo sta cercando di riportarsi sui migliori Martinello ti saresti aspettato uno sparpaglio del genere sul Terminillo no ed è solo la montagna iniziale ci sono altri quattro arrivi in salita in questo giro si avevo fatto una previsione che era quella che non ci sarebbero state delle grossi differenze tra i favoriti invece ci dobbiamo io per primo tutti ricredere perché in effetti le differenze ci sono ci sono due uomini tra i favoriti Simoni e Garzelli che stanno facendo la differenza uno è che non era che non era nominato da nessuno e che invece sta confermando tutto quello già di buono che ha fatto nella sua carriera dei ragazzi dei ragazzi dietro Popovic Mazzoleni Rumsas che erano in seconda fascia e c'è anche Sabaliauskas e invece una situazione probabilmente quella che ci aspettavamo io personalmente mi aspettavo una prova così da parte di Pantani che ripeto non la ritengo assolutamente così negativa Simoni Garzelli e Noè ormai a due chilometri da Campoforogna 1675 metri d'altitudine è l'ottava volta che il Terminillo ospita un finale di tappa del Giro d'Italia Garzelli sulla carta dovrebbe essere il più veloce in caso di arrivo allo sprint di gruppetto si è il più veloce anche perché gli ultimi 500 metri sono congeniali a lui vienerà a vedere se Simoni riuscirà a staccarlo nell'ultimo chilometro attenzione perché adesso le pendenze sono intorno alla 8-9-10% è riuscito a rientrare Noè mentre Pellizzotti riesce a recuperare sul gruppetto di Sabagliaus che sta ai popoli grande mazzoleni oggi ci prova ancora Gilberto Simoni alzandosi sui pedali rimane sul sellino invece Stefano Garzelli sta offrendo una prestazione notevole Stefano Garzelli che è rimasto lontano dalle corse causa squalifica per 11 lunghi mesi è tornato vincente al giro del Trentino proprio davanti a Gilberto Simoni poi il giorno dopo Simoni al Trentino lo ha staccato perde nuovamente contatto Andrea Noè è una lotta a due per questa settima tappa Fabretti 15 secondi ritardo di Pavel Tonkov 32 ritardo del gruppo Popovic Rumsas con Franco Pellizzotti che si sta riportando alla loro ruota i vincitori del giro 2000 e 2001 sono lì davanti Savoldelli che ha vinto l'anno scorso essendo approdato in casa Telecom non è presente Ateroata sì scena a metà tra entusiasmo sincero e delirio che rischia di far male al povero Marco Pantani spinte pacche sulle spalle sta facendo una corsa in solitaria ed è davvero confusione di sentimenti per il pirata che adesso ha nuovamente ritrovato le ruote di Veghelius e Gonciar mentre al gruppo sempre dello scalatore Romagnolo si è aggiunto Caucchioli terzo l'anno scorso il veronese sta faticosamente cercando di sentire buone sensazioni dopo l'incidente che lo ha praticamente ritardato di molto nella preparazione verso il giro proprio alla vigilia della corsa rosa per il momento è tutto sempre Smith che apre la strada a Pantani mentre continua l'entusiasmo degli appassionati il ritardo del gruppetto Rumsas è di 40 secondi quindi Rumsas Popovic Mazzoleni e Sabagliauska sono segnalati a una quarantina di secondi cerca ancora di rientrare Andrea Noè vedete si vedete che Noè uno sforzo Noè sale del proprio passo mentre ogni tanto Simoni accelera sono rasoiate Garzelli comunque riesce a riportarsi sempre sotto e adesso si è affiancato quando ormai siamo in vista dell'ultimo chilometro e solamente gli ultimi 450 metri presenteranno pendenze meno dure eccoci a campo Forogna Silvio Martinello si per farvi notare come continua in questo atteggiamento anche di guerra psicologica di Garzelli nei confronti di Simoni Simoni si gira lo guarda in faccia e Garzelli lo guarda si guardano si guardano negli occhi Simoni fa lo scatto che sono scatti che fanno male Garzelli appena Simoni rallenta gli va a fianco per fargli vedere che non ha assolutamente risentito dello scatto appena fatto da Simoni sono momenti anche questi importanti in vista proprio sotto l'aspetto psicologico adesso tenteranno l'ultima volta Simoni di staccare Garzelli perché questo è uno strappo abbastanza impegnativo mille metri in quarta posizione c'è sempre Pavel Tonko fa una ventina di secondi poco più indietro Rumsas Popovic Sabagliauskas e Mazzoleni Pellizzotti ha agganciato il gruppetto Popovic più indietro Perez Quapio e Tocchnig quindi Scarponi Casagrande Belli Bertagnoli non si hanno più notizie di Aitor Gonzales e Frigo i due capitani della Fassa Bortolo che hanno perso contatto già al terzo chilometro di salita tutto è pronto per il gran finale ripetiamo Garzelli dovrebbe avere uno spunto vincente in volata bisognerà capire quanto ha speso in questa ascesa durissima verso il Terminillo ultima curva Noè tiene duro ancora 600 metri tra un po' finisce il tratto duro già mani basse per Garzelli 600 metri Noè non ce la fa più Simoni è stato grande attore sui tornanti del Terminillo ha giocato di rimessa ma che rimessa Stefano Garzelli adesso qui bisogna cambiare rapporto prova ad alzarsi sui pedali Andrea Noè ma le forze non lo sostengono prestazione comunque rilevante per il corridore di Magenta Gilberto Simoni con Garzelli che dopo lo spunto a Terme lui già ne potrebbe agguantare il secondo successo di tappa in questo giro d'Italia Simoni è partito davanti lo affianca Garzelli sembra nettamente più veloce Stefano Garzelli a centro strada il corridore varesino Stefano Garzelli va a vincere sul Terminillo davanti a Simoni terzo Andrea Noè ed è ormai ai 100 metri conclusivi Pavel Tonkov strenuo alla difesa del capitano della CCC Polsat il russo che qui sul Terminillo vinse sei anni fa bravissimo Pavel Tonkov Alessandra De Stefano aspettiamo un attimo perché stanno arrivando Rumsas Mazzoleni e Sabagliauskas hanno limitato i danni questi tre corridori soprattutto Rumsas che da oggi dovrebbe essere designato come il capitano della FAS grandissima prestazione per Mazzoleni e per Sabagliauskas arriva settimo Rumsas a tela linea Alessandra Gilberto Simoni Gilberto vi siete dati la mano adesso è stata una sfida bellissima quella con Stefano scusate arriva Pellizzotti 52 secondi di ritardo per il corridore di Bibione è la volta di Jaroslav Popovic 59 secondi Alessandra purtroppo è una gran condizione comunque dai ho perso la battaglia e non la guerra hai perso la battaglia e non la guerra ma avevi detto io non aspetto nessuno sul terminillo ma non l'abbia aspettato nessuno solo che c'è rimasto Garzelli che bene o male era il mio avversario numero uno avresti voluto vincere oggi però ma sicuramente dimmi una cosa cosa vi siete detti vi siete parlati più volte no mai mai soltanto guardati sì guardavo lui per vedere come era come era messo ma niente Garzelli lo conosco molto bene è un cagnaccio cosa c'era in quello sguardo il Gibertto no io ho dato il massimo ci ho provato la salita non è delle più dure la selezione c'è stata però si può dire che è un giro a due questo o è troppo presto non so come sono arrivati gli altri certo oggi oggi si è visto molte cose grazie grazie Gilberto Simoni a voi un minuto e venti di ritardo per Perez Quapio e Tocznik qui siamo su Francesco Casagrande e Scarponi delusione massima per Francesco Casagrande che mai si sarebbe aspettato oggi di accusare un ritardo così pesante due minuti e trentadue per il Toscano arriva anche Giuliano Figueras e ormai ai venti metri dal traguardo Giuliano Figueras 2.46 Freddy Gonzalez con Baranovski Belli e Bertagnoli tre minuti di ritardo scarsi per loro Marco Velo si fa il segno della croce il migliore della fassa Bortolo Marco Velo da non credere la crisi di Aitor Gonzalez e Frigo Alessandra a te siamo con uno dei protagonisti di questa tappa Andrea Noè ma oggi sono andato bene sapevo che aveva una buona condizione noi dell'Alessio cerchiamo di stare dietro le più forti che hanno dimostrato di essere Garzelli e Simoni io non ho risposto alle attacche perché vanno molto più forti oggi mi è andata bene vedremo grazie complimenti ad Andrea Noè arrivano adesso Cauchioli Pantani Gonciar poi c'è anche Veghelius tre minuti e cinquanta il ritardo di Marco Pantani Davide di stacchi superiore al previsto il forcing di Mazzolini di Sabagliauskas e poi Simoni un Garzelli che è sempre stato lì davanti in seconda posizione Alessandra niente non mi sembra che sia una gran prova ma quali sono le tue sensazioni quali sono state la situazione è stata abbastanza normale e credo che un po' tutta la mia squadra abbia un po' sofferto e niente la prima la prima botta è arrivato è arrivato grazie Marco Pantani a voi sono già passati cinque minuti e diciotto secondi non si hanno notizie di Aitor Gonzales e Dario Frigo una disfatta in casa Fassabortolo questo veramente è il dato della giornata a parte il distacco di Casagrande la crisi di Pantani ma i due capitani che assieme sono usciti dalla classifica davvero è il titolo di domani l'importante è che eccoli qui Aitor Gonzales taglia il traguardo adesso sei minuti di ritardo per lo spagnolo ancora più indietro Dario Frigo rimanete con noi gentili telespettatori con Giampiero Galeazzi con i suoi ospiti per rivivere rivisitare questa tappa che ha sconvolto la classifica generale a te Giampiero grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione